Chiamagio già. Ehi, come va? L'ho trovata finalmente. Davvero? Dimmi dov'è. Indovina? Dammi qualche indizio. Ma la zona... La zona è vivace. Si sente. Ma dentro è molto silenziosa. Ha una luce stupenda da ogni lato. Devi vedere che vista. Stile contemporaneo? Certo. E con un tocco tecnologico. Come l'hai arredata? Mi conosci. Solo il meglio del design italiano. Il salotto poi lo devi vedere. Dai, dimmi dov'è. Vicino alla tua. E tu? Dove sei? Sono appena arrivata a casa tua.